Ciao a tutti, eccoci qua con il video recap di Serie A, ovviamente questa giornata è tagliata perché nel senso mancano quattro partite che ovviamente andranno recuperate via via nel corso del prossimo mese ma giustamente portiamo quelle che sono state le partite giocate e quello che è successo nella classifica che è comunque qualcosa di molto importante successo. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, a mettere i piaci, commentare, se vi piace il calcio porto anche la Serie B quindi c'è anche il recap di Serie B che è uscito ieri sera, andate a vederlo perché la B è sempre bella e avvincente con tante cose che succedono inaspettate. Allora ragazzi, si parte dalla vittoria della Roma 2-1 col Verona, una vittoria direi meritata però ecco una Roma che ha giocato molto bene un primo tempo ma poi si è fatta prendere dall'ansia, dalla paura soprattutto dopo il gol subito dal Verona. Verona che spreca anche un rigore prima di segnare ma ha tirato malissimo, forse l'avrei tirato meglio io. È un Verona che comunque sia nel secondo tempo ha giocato ha giocato anche bene facendo errori proprio nel momento finale, nel momento in cui devi andare a segnare e poi succede quel che succede e appunto la Roma vince. Però ecco è un Verona che comunque non mi è dispiaciuto nel secondo tempo se consideriamo soprattutto il fatto che il Verona ragazzi sta smantellando tantissimo la Rosa sta vendendo tutti perché la società è con le pezze al culo come si suol dire concedetemi la parolaccia. Insomma è un Verona che ha fatto anche più di quello che è nelle sue corde è una Roma che invece nel primo tempo ha fatto un ottimo primo tempo ha giocato bene, ottimi fraseggi di prima, cose che non si vedevano da quanto c'è a Murigno quindi bravo De Rossi, bisogna lavorarci tanto ma ecco già il fatto di non vedere una Roma che ogni cinque minuti protesta con l'arbitro si butta per terra, ovviamente ai giocatori ci vorrà un po' più prima di rientrare nel mood delle cose normali, però insomma è tanta roba. Ho parlato un po' troppo di sto Roma-Verona andiamo in Udinese-Milan, in Milan vince una partita soffrendo con l'Udinese succede spesso e volentieri è un Milan che la recupera sul finale e la vince perché era sotto di 2-1 fino, scusate un po' di caldo di voce fino all'ottantatresimo poi fa due cambi fondamentali Pioli, al sesso-ottottesimo entra Okafor e entra Jovic al settantacinquesimo che sono i due uomini che poi svolteranno la sfida a favore dei rossoneri con la vittoria per 3-2 con i gol di Jovic e Okafor comunque un buon Udinese che ha fatto vedere ancora una volta di essere una squadra rigenerata e mi preoccupa un po' la sfida con la Dea che ci sarà appunto questo fine settimana speriamo bene Frosinone-Cagliari importantissima vittoria per il Frosinone Frosinone che era andato sotto nel primo tempo col gol di Suleman tra l'altro il primo gol in Serie A per il giocatore poi la pareggia a Mazzitelli e poi Sule e Caio George completano la vittoria per il Frosinone veramente importante questa vittoria ai fini della classifica dopo andiamo a vedere il perché e soprattutto perché il Frosinone veniva da una serie di 6-7 sconfitte consecutive qualcosa del genere considerato la Coppa Italia e tutto il resto quindi è un'ottima boccata d'ossigeno appunto per il Frosinone Empoli-Monza partita senza storia l'Empoli vince 3-0 un Empoli che col nuovo acquisto nuovo poi si fa per dire perché poi è tornato che giocava appunto nello Spezia Zurkovski trova queste tre reti questa tripletta che fa volare l'Empoli un po' fuori dalla zona ma non più di tanto però dalla zona caldissima è in quella calda però insomma è ancora lì però è una vittoria molto importante soprattutto con un Monza che insomma ci ha abituato a ben altre prestazioni Salernitana Genoa vince il Genoa 2-1 con la Salernitana la Salernitana secondo me è un po' meno bella un po' meno brillante delle delle ultime volte è vero che è andata in vantaggio al secondo minuto e pensavo la potesse portare a casa poi la poppareggia Reteghi al tredicesimo e su rigore Gudmundson il solito Gudmundson peccato per lo snack è arrivato in testa a a Reteghi che però non fa neanche poi più di tanto fa la botta alla presa non è che la presa però fa ridere poi dopo che Strootman se lo mangia lo ha per lo scarto se lo smanga se lo mangia si parietto simpatico Lecce Juve 3-0 partita dove il risultato potrebbe essere un po' bugiardo nel senso uno può illudersi che sia stata una passeggiata per la libertà Lecce ha fatto una buona partita anche nel primo tempo soprattutto nel primo tempo è stato un buon Lecce e poi è venuta fuori a distanza la forza di una squadra più forte con la doppietta di Vlaucci che tra l'altro frega il gol a McKennie il secondo gol e lì dai insomma è stata un po' una pecca di egoismo il gol era di McKennie praticamente già fatto dispiace un po' vedere queste cose però è che dopo gli chiede scusa ed è tutto risolto e poi la chiude Bremer col 3-0 all'ottantacinquesimo e la Juve che vola in testa la classifica vola in testa la classifica considerato appunto le partite meno delle altre andiamo a vedere appunto le squadre che hanno giocato Salernitana che chiude all'ultimo posto con 12 punti terza sconfitta consecutiva la Salernitana inizia a farsi dura perché sono 6 punti per salvarsi è vero sono due partite tutto può cambiare vedete anche l'Empoli che ieri con la vittoria è risalito un po' però ecco soprattutto la Salernitana deve vedere il fatto che adesso appunto l'Empoli che è la penultima è a 4 punti quindi serve una sterzata forte e non so quanto Inzaghi resista in quella panchina lì si fanno nomi forti nomi grossi Balotelli Jérôme Boateng sono giocatori sicuramente di esperienza bisogna vedere però che vadano là con la voglia di fare bene sicuramente Balotelli è uno che in seriali i gol li può fare anche a Salerno però ecco devono andare là con la testa se vanno là con la testa la Salernitana può salvarsi se vanno là per svernare no ecco il concetto è quello Empoli 19esima posizione vittoria molto importante 16 punti continuo a notare questa cosa dei gol subiti dall'Empoli della Salernitana che sono una marea la Salernitana ne ha subiti 42 l'Empoli ne ha subiti 35 però ecco è una vittoria molto importante contro il Monza 3 a 0 e un Zurkowski che sembra tornato a quello dei bei tempi adesso all'asta di riparazione ci scannerà per prendere Zurkowski a fantacalcio Verona sconfitta come dicevo che però fa vedere qualcosa di buono è un Verona che nonostante tutto nonostante tutte le eccessioni nonostante tutto è ancora lì è ancora lì e ha giocato bene forse nel secondo tempo avrebbe meritato anche il pareggio non si incazzino i romanisti io la penso così è un mio punto di vista è un Verona che ha sprecato molto soprattutto quel rigore che ragazzi veramente è qualcosa di indecente però ho visto qualcosa di positivo da parte del Verona quindi la voglia di non arrendersi mai eccetera dei bei recuperi difensivi allucinanti che correvano andavano a prendere una palla praticamente che ormai poteva essere gol quindi comunque la voglia la grinta c'è basta che però adesso qualcuno arrivi e qualcuno di forte perché salvarsi quest'anno è possibile per tutte ma la di dietro perché sono tutte vicine ma bisogna comunque fare qualcosa di più Cagliari 21 partita anche il Cagliari ovviamente dopo salto quelle che non hanno giocato sconfitta pesante pesante a Frosinone perché è una sconfitta che non mi aspettavo da Ragneri perché Ragneri quegli scontri diretti perché comunque io considero ancora che Frosinone è una squadra che lotta per salvarsi ha sempre portato a casa qualcosa o un pareggio o una vittoria la portava a casa quindi è un Cagliari che ha preso tre poppe e quindi deve un attimo leccarsi le ferite però al momento sarebbe salvo però ripeto è un punto di distanza da Verona e due dall'Empoli Ocio perché si fa presto a tornare giù Udinese che appunto perde una partita in modo roccambolesco però è un Udinese che come dicevo e come continuo a pensare presto non sarà in queste posizioni secondo me arriverà lì dove è adesso il Frosinone in Lecce arriverà l'Udinese perché sta facendo prestazioni ottime con squadre molto più forti e quindi può sicuramente non voglio portare sfiga però uscire da questa situazione qui per me è così vedremo vedremo perché comunque ha perso anche questa in modo molto roccambolesco però l'ha persa speriamo non si rifaccia già da domenica prossima ma da quella dopo visto che gioca contro di noi saltiamo il Sassuolo che rimane fermo a 19 punti con una partita in meno Lecce che come vi dicevo ha fatto sì un ottimo primo tempo ma poi perde 3 a 0 21 punti è un Lecce in caduta perché 4 sconfitte nelle ultime 5 un solo pari contro il Cagliari tra l'altro partita che avrebbe dovuto vincere e per quello che vi dicevo che il Cagliari con quelle pericolanti ha sempre fatto almeno un punto e quindi non me l'aspettavo quattordicesima posizione 21 punti e 21 partite giocate vediamo vediamo il Lecce cosa può fare perché comunque ripeto qui siamo tutte lì è inutile gioco di parole ma così è Frasinone che appunto vince molto importante la vittoria per gli uomini di Francesco su un Cagliari che almeno si tiene alle spalle cosa molto importante 22 punti al momento la zona retrocessione ha 5 punti quindi è una vittoria d'ossigeno per un Frasinone che viveva un momento molto molto brutto tante sconfitte consecutive e quindi una buona boccata d'ossigeno Monza che perde la sua seconda partita consecutiva dopo le 5 palle prese dall'Inter scusate in casa ne prende 3 dall'Empoli 8 gol subiti in 2 partite sicuramente sono un campanello d'allarme abbastanza grosso per gli uomini di Palladino che però non si possono lamentare della 12esima posizione in classifica e dei 25 punti 25 punti che anche il Genoa che vince una partita molto importante con la Salernitana perché ricordo anche il Genoa è considerare da considerare una squadra che si deve salvare non è che deve andare in Europa e quindi per una neopromossa 25 punti 11esima posizione tanta roba per gli uomini Girardino Girardino che si lamenta della società dei campi di allenamento dei giocatori che vorrebbe ecco queste sono cose che normalmente quando le fai in pubblico poi rischi che al primo passo fa ti tagliano le gambe quindi Ocio Alberto perché so come vanno queste cose e forse era meglio tenersene per sé e parlare con la società vabbè piccola considerazione personale decimo posto per il Torino con una partita in meno 28 punti rimane lì appunto Napoli anch'esso una partita in meno non a posizione 31 salto ovviamente quelle che non hanno giocato Bologna ottava posizione 32 punti anch'essa con una partita in meno qui ci avviciniamo a tutte quelle che hanno giocato che non hanno giocato praticamente la Roma invece con questi tre punti appunto dell'era dei rossi i primi tre punti dell'era dei rossi Stricioni per Murigno per dei rossi una vittoria sofferta perché nel secondo tempo è stata molto sofferta ma importante tre punti molto importante che la rilanciano un po' in chiave Europa Europa League quanto meno e adesso bisogna vedere quando le altre recupereranno poi il distacco e tutto il resto Lazio Atalanta Fiorentina anch'esse rimangono invariate 33-33 Lazio Atalanta 34 punti la Fiorentina sempre per il fatto che non hanno giocato Milan che con questa vittoria si avvicina ovviamente all'Inter che ha una partita in meno però comunque sia tiene margine buono sulla quarta in classifica quinta e sesta ovviamente ripeto i recuperi ci diranno poi tutto il resto come sempre purtroppo questa supercoppa fatta in Arabia a metà gennaio non ha un senso logico io ve l'ho detto in mille video e continuo a pensarlo perché andrebbe giocato in agosto e in Italia ma chiudiamo le parentesi qui perché se no ci dilunghiamo troppo e io devo andare a mangiare allora Milan appunto 45 punti 21 partita giocata 41 gol fatti 23 subiti quarta vittoria consecutiva un Milan che ha saputo soffrire ma alla fine portare a casa 3 punti veramente importanti a Udine che ultimamente non è facile portare a casa da Udine Inter appunto che rimane ferma a 51 con la partita in meno la supercoppa da giocare stasera e viene sorpassata ovviamente per il fatto che una partita in meno dalla Juventus io spero che rimanga così anche dopo il recupero perché vorrebbe dire che l'Atalanta batte l'Inter sarebbe tanta roba ovviamente però insomma il campionato è lungo ragazzi quindi la Juve continua la sua striscia di vittorie consecutive solo 12 gol subiti 35 fatti una sola sconfitta appunto come i nerazzurri 52 punti e adesso finché l'Inter non recupera o comunque non c'è un primo passo falso della Juve la Juve si gode il primato in solitaria ragazzi come sempre vi ringrazio di aver seguito il video vi abbraccio di cuore vi invito a iscrivervi a te la campionina metti un piaccio con il video di commentare mi raccomando è tutto gratis se volete abbonarvi 0,99 centesimi mi offrite un caffè al mese avete dei privilegi video andate prima eccetera eccetera andate a vedere c'è scritto là sotto dove dice abbonati i super grazie grazie a chi l'ha fatto perché c'è chi l'ha fatto quindi grazie di cuore veramente un abbraccio a tutti quanti ci vediamo stasera col post partita di Napoli Inter spero proprio di sì penso proprio di sì vedremo ciao vi abbraccio di cuore vostro amonto alla prossima ciao ciao